Buona giornata! La vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente. Stephen Hawking. Ah beh, è che ve lo rigaffa! Se lo dice lui, se lo dice questo luminare, questo genio della scienza, io ci credo. E anche senza che lo diceva lui ci credevo uguale, però ora ci potete credere anche voi. La vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente. Quindi oggi, come prima cosa, trova un momento per ridere, per ridere di gusto. E se proprio dici ma io sono da solo, come faccio? E poi il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi. No! Segui, segui il mio video di Yoga della Risata che ti metterò sia qui nelle schede che comunque nelle schermate finali alla fine del video. Quindi segui quella cosa e capirai che non è il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, ma semplicemente è una pratica di vita. È una pratica, prima di tutto, che serve per avere, per raggiungere un certo tipo di energia, un certo tipo di respirazione, un certo tipo di movimento interiore. Quindi il ridere non è una cosa da sciocchi. Il ridere è una cosa da intelligenti, lo dice Stephen Hawking. Quindi oggi, mi raccomando, prenditi meno sul serio. Comincia a ridere, anche delle cose che pensi che non siano da ridere. E non ridere perché quelle cose, ok, sono divertenti, ma semplicemente ridere perché vuoi abbassare la tensione, perché vuoi vivere bene, perché la vita sarebbe una tragedia se non fosse divertente. Stephen Hawking. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao!